La disarmonica è sinonimo di tradizione e di amore per la musica, questo festival internazionale nella sua 33esima edizione è riuscito a coniugare lo strumento con la modernità e l'innovazione sia musicale che sociale. Intanto il centro città ha mutato volto anche grazie ad una serie di proposte collaterali. Lo storico concorso è divenuto insomma l'occasione per l'espressione di un'insolita cifra artistica che passa ad esempio anche per un grande fratello musicale. E' la curiosa struttura Porta Marina dove dall'inizio alla fine del festival abitano i protagonisti del music reality show. La casa trasparente misura 6 metri per 5 ed è abitata da due artisti giovani e di grande talento Luca Colantonio, vent'anni di Atessa, vincitore di numerosi concorsi musicali e Corinna Pressi di Reggio Emilia, attrice ma soprattutto stimatissima chitarrista. I due si esibiscono ogni giorno in un paio di concerti, ricevono nella casa artisti, dialogano e creano momenti musicali. Al di là del grande fratello musicale è comunque un festival, come recita lo slogan scelto dedicato a chi ama la musica e a chi l'ascolta con passione. Un momento rivolto davvero a tutti, dai grandi nomi ai grandi marchi, dai bambini agli adulti, dagli appassionati ai curiosi, dai tanti protagonisti ai mille spettatori. Ed il risultato è sotto gli occhi di tutti avendo coinvolto tutto il centro storico compresi ristoranti, bar, pizzerie e negozi in una suggestiva via del festival fatta di concerti diurni e notturni, spettacoli, intenso strutture, mostre e allestimenti.